Possiamo dire che la tua stagione riparte dall'ottima prova che hai fatto soprattutto nel secondo tempo di Coppa Italia? Allora, noi ripartiamo dalle partite positive quando il mister mi dà la possibilità di giocare, cerco sempre di essere pronto e dare il massimo. In Coppa Italia abbiamo avuto la possibilità e l'abbiamo sfruttata tutti, abbiamo fatto tutti un'ottima partita. Io gioco sempre per la squadra e per dimostrare il mio valore. Poi dopo il mio momento arriverà. Soprattutto perché anche a Viterbo quando sei stato chiamato in causa lo hai fatto molto bene. La stagione è lunga, Colombo dice ci saranno opportunità per tutti. Sì, il mio compito è mettermi a disposizione del mister, della squadra, andare sempre forte, allenarmi e farmi trovare pronto quando avrò le mie possibilità. Adesso c'è da cambiare marcia in casa, sei d'accordo? Anche se finora il calendario non vi ha tanto aiutato perché avete affrontato ad esempio il Crotone. Ora ci sarà l'Andria, poi squadre sulla carta alla portata. Cambiare marcia all'Adriatico è la parola chiave? Sì, sicuramente in casa bisogna ottenere punti, in trasferta stiamo andando molto bene, bisogna iniziare a vincere le partite anche in casa. Soprattutto adesso abbiamo un filone di partite più semplici rispetto a come ha detto il Crotone, però non sono da sottovalutare, bisogna fare i punti. Tutto per te non era facile dopo l'infortunio rimetterti a disposizione al 100%, la sensazione è che ora sei a posto fisicamente? Sì, sì, ho lavorato tanto, sia quest'estate quando sono stato infortunato per farmi trovare pronto a ritiro e adesso mi sento al 100%, non ho nessun problema e spero di continuare così. Sei arrivato da terzino sinistro, l'infortunio di Pellacani ha costretto un po' Colombo anche ad adattarti al centro della difesa. Come ti trovi? No, mi trovo bene perché io in passato l'ho sempre fatto, più nella difesa a tre ho giocavo terzo di sinistra, però è un ruolo che ho fatto anche nelle giovanili e quindi mi trovo bene, sia centrale che terzino non c'è differenza. Dove vuole arrivare questo Pescara? Sicuramente tra le prime in classifica se non vincere il campionato. Al prossimo episodio Grazie a tutti.